Buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Usura e racket sono fenomeni in costante aumento nel nostro paese, la cui portata è sottostimata perché esiste un sommerso, casi non denunciati dalle vittime per paura di ritorsioni e di essere lasciate sole. A Campobasso l'argomento è stato affrontato nel corso di un incontro organizzato da confesercenti, SOS Impresa, l'ordine degli avvocati del capoluogo e dalla scuola forense del Molise. Il messaggio che ne è venuto fuori è quello di denunciare perché lo Stato c'è, come ci sono i benefici di legge per chi cade nella trappola degli usurai. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Usura e racket, fenomeni in aumento in Italia, ma i numeri sono sottostimati perché esiste uno sommerso che non viene alla luce a causa della paura di denunciare. L'imprenditore spesso teme di essere lasciato solo dallo Stato, senza assistenza e senza risorse. In realtà non è così, ci sono i benefici di legge per le vittime di cui però si conosce ancora poco. Da qui il convegno organizzato a Campobasso da confesercenti dall'ordine degli avvocati di Campobasso e dalla scuola forense del Molise. L'obiettivo è quello di accendere un farro sul fenomeno affinché le vittime abbiano il coraggio di denunciare perché la denuncia resta l'unica arma per uscirne fuori. Per fortuna al momento non ci sono particolari, ma questo non vuol dire che non ci sono. Posso solo dire che l'oggetto importante del convegno è proprio quello di creare rete, quindi di creare una rete di legalità dove appunto imprenditori con le capacità chiaramente, ognuno per la propria attività dell'ordine degli avvocati, scuola forense, istituzioni, possano aiutare le eventuali vittime che mi auguro non ce ne siano, ma insomma qualora ci dovessero essere, verso la strada della denuncia, ma accompagnandoli proprio veramente fisicamente e a dargli l'informazione che i relatori stanno dando in maniera veramente qualificata degli aiuti che le vittime di usura e racket possono beneficiare. Quindi che appunto l'imprenditore non è solo in questa battaglia, qualora, il mio appello è che qualora veramente abbia il coraggio di denunciare, di farsi aiutare per evitare, visto anche il momento storico di forte crisi che stiamo vivendo, è facile cadere in una problematica. Quindi io dico rivolgetevi a SOS Impresa e mi permetto, visto la possibilità di avere un pubblico più ampio, di chiamare il 412209 perché ci saranno persone competenti che lo accompagneranno verso la giusta via, che comunque per inteso è quello della denuncia. Isernia non rinuncerà al cinema, è quanto emerso dall'incontro pubblico tra amministratori e cittadini. La sala polivalente sarà però utilizzata anche per altri eventi culturali, soprattutto rassegne teatrali. E in merito i cittadini sono perplessi, si chiedono infatti per quale motivo adibire la sala a teatro, se di teatri ce ne sono già tanti. Sentiamo Valeria Migliore. Isernia avrà il suo cinema, lo ha garantito il sindaco Piero Castrataro nel corso dell'incontro pubblico tra amministratori e cittadini per discutere del futuro della sala polivalente di Via De Gasperi. L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta culturale, oltre che per le proiezioni la sala verrà utilizzata anche per le rassegne teatrali. L'idea dell'amministrazione è quella di avere una sala polifunzionale dove non si sia fatto solo il cinema, non ci sia un'offerta culturale anche per spettacoli teatrali, la possibilità di fare delle rassegne cinematografiche e teatrali, di fare cinema all'operto non solo vicino al cinema ma anche nella città e speriamo di raccogliere dai cittadini delle buone idee da inserire anche nel bando. Perplessi i cittadini che hanno compilato anche il questionario lanciato dall'amministrazione per raccogliere preferenze sulla destinazione d'uso della sala. Si chiedono infatti perché adibirla a teatro quando di teatri in città ce ne sono già molti. Oggi forse si insiste un po' troppo sulla natura del cinema come sala polivalente, quello che dico è che sale congressi ne abbiamo tante, c'è l'auditorium, l'auditorium avrebbe anche una sala cinematografica al suo interno che mi giunge voce che comunque non vuole essere, forse gli si vuole cambiare la destinazione d'uso, non so se verrà mai completata, quella o questo. Un cinema Isernia lo deve avere. Abbiamo l'auditorium, abbiamo anche il lavatoio che funge da sala culturale e poi abbiamo la sala della provincia, abbiamo la stessa biblioteca romana dove si sono svolte più cose. Va benissimo, quando si parla di cultura va bene tutto per me. Però Isernia come capologo di provincia ha bisogno di un cinema, un cinema è basta. Questa sala che può essere anche utilizzata per usi teatrali, è ovvio che il cittadino desidera che sia utilizzata prevalentemente per proiezioni cinematografiche. Intanto la novità emersa dall'incontro è quella che riguarda il bando per la nuova gestione. Sarà pubblicato a giorni e dentro un mese potrebbero già partire i lavori di ristrutturazione con i 800 mila euro in gioco. Un percorso di confronto schietto tra i giovani molisani che rappresenta l'inizio di un progetto e una visione di sviluppo e questo è il filo conduttore della festa delle idee. Iniziativa promossa dai giovani democratici del Molise. Per questo pomeriggio a Campobasso l'iniziativa si terrà a partire dalle 17 in piazza Municipio al gazebo del Bar Centrale. Tante idee dai giovani per i giovani spiegano i promotori, tanti contributi di proposte da offrire al campo progressista in modo costruttivo e stimolante, rispettoso e fresco. Parteciperà tra gli altri il giornalista del quotidiano nazionale Ettore Maria Colombo. E tutto termina qui il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Massimiliano Chiocchio in regia vediamo come titolo il giornale del Molise.it Covid, 100 nuovi contagi e 4 ricoveri in malattie infettive. Monitoraggio Covid in Molise, incidenza stabile e indice RT in calo. Primi anni, Movimento 5 Stelle, videosorveglianza in Molise, ferma al palo da 4 anni, abbiamo presentato un esposto alla Procura della Corte dei Conti. Macchine incendiate a Campobasso, indaga la polizia, chi ha agito lo ha fatto con tecniche da professionisti. Vediamo poi le altre notizie sul giornale del Molise.it. Concorso internazionale, Movimento per la vita, premiati 8 studenti del Majorana Fascitelli. Non solo cinema, incontro pubblico a Isernia. E poi i PD, giovani democratici a Campobasso, lanciano la festa delle idee. Prevenzione contro le truffe, i carabinieri incontrano la gente nei centri per anziani. Accusati di aver truffato il comune di Bonefro, tre le assoluzioni. Poi ancora pacchetto giovani, scadenza prorogata al 21 novembre della misura. Poi in Molise, poi ancora enogastronomia, serata evento, unisce cucine di Molise, Sicilia e Francia. Al Via la nona edizione del premio De Andrè, quest'anno tema tratto dalla canzone Andrea. Ci sono poi tutte le altre notizie sul giornaledelmolise.it. Vediamo adesso come titola Primo Piano Molise, il quotidiano del Molise. Sanità all'otito, accelera, pronta la bozza del decreto Molise. Ci lavoro dal giorno dell'elezione, ho incontrato il direttore della programmazione, l'ex viceministro, i ministri Schillace e Giorgetti. Salute prima di tutto, ma anche infrastrutture e più forza all'università. Dice l'otito, poi regionali attenzioni nel centro-destra. Il senatore smorza le polemiche e fa appello alla responsabilità. Uniti si vince. Pandemia a cancro, schitulli in Italia, mille nuove diagnosi ogni 24 ore. Il presidente della Lilt rilancia l'importanza della prevenzione ai centri privati convenzionati o pubblici. Il paziente deve poter scegliere dove rivolgersi. Poi il bollettino Covid-4, ricoveri e un dimesso in Molise, 100 positivi, nessun guarito. A Campobasso, Regione Senza Futura, le 17, la festa delle idee dei giovani Dem. Termoli, 59enne morto al pronto soccorso, indagati due medici, lunedì l'autopsia. Poi nella giornata dell'emigrazione, eccellenza molisana, onorificenza alla memoria di Paola Cerimele, attrice vittima di un incidente stradale. Poi stagione scistica, impianti revisionati e funzionanti, Campitello, l'anno dell'attesa svolta. Riaprono pure Capodacqua e Colle del Caprio. Il punto di Sergio Genovese è non fare confusione con il talento e il titolo. Poi le notizie di sport. Campobasso di Meo pensa al cambio di modulo in caso di assenza di Fazio. La Regione celebra i Big, un convegno, dimostrazioni e un gala dal 18 al 20. Poi maratona di sport in città, CLN, Cus Molise, Spike Devils e Magnolia in successione. Il centro con le notizie che riguardano Pescara partono i lavori sulle due riviere. Pronti progetti per le zone nord e sud, interventi per verde e ciclabili. Poi Covid 4.783, nuovi casi e 180 malati in ospedale. Il virus torna a colpire in Abruzzo il report settimanale. Poi Sanità ha persi 213 milioni, veri colpa di luce, gas e spese per la pandemia. Poi ancora schede taroccate per la televisione a pagamento. C'è un indagato. Poi ancora Sevel, mancano i materiali. Stop di due giorni. Una telefonata tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, ricucite le divisioni, così dunque la politica. Poi il Fla fa il pieno di stelle, applausi per l'attore Bentivoglio. Caro Bollette, 15 associazioni ora sfidano la regione, la protesta in Abruzzo. Bastonate a rivale in amore. L'Ite in strada dopo gli insulti, entrambi finiscono in ospedale. L'aggressione a Chieti. Poi scomparso il batterio nell'acqua di dieci comuni a Pescara e provincia. E poi ci sono le notizie sportive. Nuova Pescara, fusione già in ritardo, rinvio al 2024. Corsa contro il tempo per unire i servizi con Montesilvano e Spoltore. Vediamo adesso il centro con le notizie che riguardano la zona del Terramano. L'inchiesta sui fallimenti si allarga. Terramo finiscono sotto esame altri cinque casi dopo l'arresto di padre e figlio. Poi pittrice uccisa, le condanne dei santoleri in Cassazione. A febbraio parte il terzo processo sul delitto di Giulianova. Vediamo le altre notizie. Gli ucraini a caccia di case sulla costa. Alba molti profughi che rifiutano il trasferimento e vogliono restare in Abruzzo. Rapina col coltello. In tabaccheria, bandito con il passamontagna, si fa consegnare mille euro a Martinsicuro. Atri muore in casa a 55 anni, struncata da un malore. Poi il ponte ciclopedonale a Roseto e Pineto aprirà il 19 tra Roseto e Pineto. Poi vediamo le altre notizie del centro. Quelle che riguardano invece la zona di Chietilanciano Vasto. Movida e i locali restano sequestrati. Il Tribunale del Riesame respinge il ricorso dei gestori di Bross e Beccafico. C'è carenza di materiali. La Sevel si ferma per due giorni. Val di Sangro stoppa la produzione nella fabbrica del Ducato. Bastonate sotto casa al rivale Inamore. Questa è l'altra notizia che arriva da Chieti. E poi cinghiali appello al governo di Giuseppe Antonio dell'Anci. Subito interventi contro i rischi. La richiesta poi l'emergenza dei comuni del Chietino chiedono dunque delle soluzioni. A Chieti false presenze alle elezioni sotto accusa di Gianmarco. Passiamo adesso a vedere come titola invece il centro con le notizie che riguardano l'Aquila a Vezzano. Sul Monaclan in agguato sui fondi del PNRR. L'Aquila interferenze della criminalità. Nasce la squadra anticorruzione. E poi bambino morto il perito decisivo il freno dell'auto non azionato l'Aquila. La tragedia all'asilo ricorderete. Poi schianto in moto è grave un 17enne San Demetrio Nevestini. Violento impatto contro un'auto. È stato operato in ospedale il ragazzo. Poi a Vezzano truffe via internet. Merce inesistente in vendita. Gli acquirenti pagavano sulle poste pay senza ricevere nulla. Vediamo adesso il messaggero Abruzzo. Come titola la sanità paga il caro energia deficit. L'assessore Nicoletta Verì. Maggiore spesa a fine anno di oltre 170 milioni. Sui conti pesa anche il Covid. E' chiesto incontro con il ministro Schillaci per i rimborsi. Corte dei conti. Falsa attività di tutor nei guai di Gianmarco. I profughi ucraini dalla campagna tornati in Abruzzo. Teramo. Il trasferimento durato 24 ore. La struttura di accoglienza era fatiscente. Poi Martinsicuro. Bandito armato di coltello. Rapina tabaccaia. Di Pangrazio non abusò dell'auto. Blu a Vezzano. I motivi della soluzione del sindaco. Bollette le imprese contro la regione. La rabbia è dunque la protesta che ci sarà durante il prossimo Consiglio. Poi l'Aquila. Tommaso Travolto. L'area era vietata alla sosta delle auto. Queste dunque le notizie del messaggero Abruzzo. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo con il Corriere della Sera. Meloni prova a ricucire con Parigi. In comprensione con la Francia meglio isolare gli scafisti. La replica si è rotta la fiducia. Migranti dunque. Mattarella. L'Europa trovi soluzioni condivise. Verso un vertice dell'Unione Europea. Berlino conferma l'accoglienza. Roma non è sola. I 230 della Ocean Viking. Lo sbarco a Tolone. Sovranisti all'attacco. I 230 migranti. Arrivati a Tolone. Portati in un centro francese. Dividono appunto i francesi. E poi l'intervista a Landini della CGL. Va chiesto un contributo di solidarietà ai più ricchi. Così appunto dice Landini. Vediamo adesso come titola invece il fatto quotidiano. Superbonus. Meloni punisce poveri e aziende. Il 110% funziona troppo. Il governo lo uccide per i meno abbienti. Scrive ancora il fatto quotidiano. Penalizzati i condomini. Le bugie sul buco smentite dai dati sul PIL. Costi e lavoro. Meloni e Macron a Bali. Chiarimento improbabile. Italia-Francia. Guerra di parole. Vertice in forse. Il governo pensa di sequestrare le navi delle ONG. Poi ci sono gli approfondimenti. Generali USA e Putin. Trattare Biden-Tache. Ucraini a Kherson. Russi in trincea. Migranti e 110. Giorgio Ascolti. Giorgio Ascolti. Forza Italia. O è scontro. Parla Mule. Giorgio Mule. Poi Damato vuole il Lazio ma deve ridare 270 mila euro. Condanna contabile. Scrive il fatto quotidiano. Vediamo adesso come titola la Repubblica. Kherson è libera. Ucraina in festa. I russi hanno completato il ritiro senza perdite. Le ipotesi sulle trattative. Il retroscena è il comandante degli Stati Uniti. È ora di negoziare. Così scrive Gianni Riotta. E poi l'anticipazione. Il leader capace è un artista sulla fune. Scrive invece Henry Kissinger. Lo scontro Parigi-Roma. I migranti dividono l'Unione Europea. La Francia ottiene il sostegno della Spagna e blocca le frontiere. Meloni. Reazione spropositata. Berlino non chiude. Bruxelles prepara un piano d'emergenza sui profughi. È un vertice dei ministri degli interni. Evitare la crisi politica. Mattarella spinge per la mediazione. Serve solidarietà nell'Unione. E anche su questo punto ci sono diversi approfondimenti. Atlante politico. Più consenso alla Premier che al governo. Movimento 5 Stelle supera il PD. Dalla Repubblica passiamo alla prima pagina di Libero. Sono pazzi questi francesi. Scrive. I barbari sono ancora loro. Ecco le prove. Italiani disumani. I gendarmi di Macron. Tra sparatori e pestaggi hanno combinato di tutto per respingere gli immigrati. Poi gli ucraini riprendono Kherson. Sconfessati i finti pacifisti. L'escalation non c'è. La ritirata russa. Sì. E poi ancora quest'altra notizia rilasciata dagli iraniani. Bentornata Alessia. Il prossimo viaggio fallo in occidente. Scrive Vittorio Feltri. Passiamo adesso a vedere come titola invece il secolo d'Italia. Caro Bollette. Il governo si schiera con famiglie e imprese. L'editoriale. E poi ancora migranti. Weber del Partito Popolare Europeo sta con la Meloni e dice l'Italia non sia sola. Manichino della Meloni attesta in giù un'anime solidarietà. Ieri a Bologna il fatto. E poi MPS la vedova di David Rossi. I PM indagati finalmente dice. Passiamo adesso a vedere come titola il manifesto. Derive e approdo. Il titolo in evidenza. Undici paesi dell'Unione Europea accoglieranno i migranti della Ocean Viking sbarcati ieri a Tolone. Ma tra Italia e Francia la tensione resta alta. L'Eliseo smentisce un possibile incontro Macron-Meloni al G20. SOS Mediterranea. Mai più lunghe traversate. Sugli sbarchi i dati danno torto a Roma. Il congresso PD. Schlein aderisco con le mie proposte. E poi Zelensky si riprende Kerson. Ultimato il ritiro russo sulla riva orientale del Dnipro. Dal manifesto passiamo alla prima pagina di avvenire il quotidiano dei Vescovi. Vertice riparatore. Meloni sui migranti. Reazione ingiustificata dei francesi. Unione Europea e Berlino mediano. Il 110% è un super buco da 38 miliardi. Conte rotto il patto con le famiglie. La COP27 al Cairo. Biden si scusa e ripromette impegno per il clima. Ma i giovani lo fischiano. Kerson libera ma rimane sotto minaccia. Zelensky festeggia. La città è tornata nostra. La guerra però continua. Uccisi dai bombardamenti. Sette civili. Poi vediamo la prima pagina del sole. 24 ore bonus. 110% ultimi giorni resta solo per lavori iniziati entro il 25 novembre. Decreto aiuti quater agevolazione massima, se c'è l'ok, alla delibera condominiale prima che il DL entri in vigore. Attesa la pubblicazione in gazzetta ufficiale fra il 17 e il 18 novembre. Le abitazioni unifamiliari, lavori in corso tre mesi in più, margini molto ristretti nel 2023. Poi BTP Italia lunedì l'emissione, tasso minimo garantito a 1,6%. Si parla dunque di titoli di Stato. Il rinnovo, contratto scuola. Dicembre scatta l'Una Tantum da 2 a 4 mila euro. Dal sole 24 ore passiamo adesso alla stampa di Torino. Kherson liberata, dunque la guerra in Ucraina. In primo piano la bandiera dell'Ucraina torna a sventolare nella città occupata dai russi la festa dei ragazzi. Se ora Putin si sente umiliato, uno degli approfondimenti, il titolo di uno degli approfondimenti, è le trappole lasciate dallo zar, scrive Monica Perosino. Perosino. Migranti tornano i decreti Salvini, allo studio multe e confische delle navi ONG, crisi con la Francia, l'Unione Europea prova a mediare. Draghi così distruggono l'asse con l'amico Macron, dice. Poi la polemica, la premiera, testa in giù, una protesta indecente. Dunque l'altro fatto, quello di Bologna. Poi ci sono diversi approfondimenti, anche politici. Dalla stampa passiamo adesso alla gazzetta dello sport, che titola così Juve colpo su colpo. Karsdorp per la rimonta, poi Milinkovic in estate. Il suo agente è a Torino, rinforzi Scudetto, e non solo per la Juventus. E poi l'intervista Barzagli dice, con Pogba e Chiesa, si può tutto così l'ex difensore juventino. Uno dei pilastri della famosa BBC. E poi il confronto. Allegri Sarri, la sfida degli antispalletti. Inter subito Vasquez dal Valencia. Pronta la conferma di Dzeko e si lavora per gennaio, dunque. Anche in questo caso per i rinforzi. Intanto in casa Milan la strategia rossonera. Un piano da 200 milioni dopo i rinnovi. Già chiusi tocca Leao e Ben Nasser. Poi a Napoli, c'è l'Udinese, può volare a più 11 il Napoli. Cerca la Fugona Record e alla parola Scudetto iniziano i riti scaramantici il Napoli. Quest'anno è davvero forte. Poi Zaniolo con fagioli e mancini chiama Pafundi di 16 anni e tra i 31 convocati dell'Italia. Ci sono poi le altre notizie. Sainz vede rosso, un piccolo passo e saremo da titolo, così dice lo spagnolo della Ferrari. Invece per quanto riguarda il tennis, Nadal, il grande Nadal per l'impresa. Finals ci riprovo, bello fare il papà, lo spagnolo e l'evento intanto di Torino. Dunque si racconta riguardo il tennis ma non solo, anche sulla vita privata. E con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise, come sempre in diretta alle 14 con il telegiornale. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.